L'importante è arrivo, l'importante è arrivo. Allora ragazzi signori, 5, 4, 3, 2, 1, parte di questo momento la grandezza di Cassino, terra di San Mello Nostro, terra di Santo Maggio. 115 km, 2.300 m di trivello, buona corsa a tutti, buona pedalata. Grazie a tutti, grazie a tutti. 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti